Buongiorno a tutti, oggi tratteremo di un nuovo prodotto della linea DePlant, che è Ligne Dren Ibiscus. Questo prodotto, in boccettina di vetro scuro, per mantenere inalteranti tutti i prodotti al suo interno e senza l'aggiunta di eccipienti di sintesi coloranti o aromi artificiali, contiene ibisco e frassino con proprietà diuretiche, soprattutto nelle viurinarie e anche disintossicanti. L'ibisco va ad agire anche a livello della circolazione, dunque va a migliorare il microcircolo in caso di problemi di cellulite, in caso di anche problemi di ritenzione dei liquidi e agisce anche a livello del metabolismo, perché drena ma nello stesso tempo va a dare tono senza abbassare troppo la pressione. Come dosaggio sono 25 ml, sono due misurini e mezzo, da sciogliere nel bicchiere d'acqua, stomaco vuoto o in alternativa in un litro o litro e mezzo d'acqua da bere durante la giornata. Una volta aperto va mantenuto in frigo e agitato ogni volta perché si sedimentano sotto le piante. Potete seguire Erboristeria Lani in Fe anche sul canale YouTube, ma anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati.